Nel mio piccolo, come penso, cerchiamo di fare un po' tutti, sono vicino all'ambiente, mi preoccupo per l'ambiente perché ci vivo, ci respiro l'area, ma mi viene da pensare a tanti di quegli attivisti climatici, ambientalisti e quant'altro. Vorrei chiedervi se si sono mai fatti un giro nelle tantissime fabbriche ormai abbandonate in disuso con all'interno una marea di materiali inquinanti che comunque sia, comunque non è che dici vabbè è lì fermo, non fa male a nessuno, è lì fermo e no, è no che non sta lì fermo perché comunque esiste ancora una miriade di metrature coperte dall'Eternit e pensate che in tutti questi anni qualcuno abbia provveduto alla bonifica o al risanamento dei vari luoghi, no? No? Quindi dico questo perché? Perché penso che a volte per cambiare le cose bisogna letteralmente forzare la mano, scassinare la serratura, anche con le azioni individuali che qualcuno dice ma bisogna essere compatti, ma lo si è compatti, è che bisogna avere la percezione e la visual a 380 gradi, perché se tu parti da solo facendo una cosa concreta e comunque giustificata e comunque sensata e stai tranquillo che qualcuno ti viene appresso, se tu fai una gnata, spacco una vetrina perché sono incautato col mondo, non risolvi nulla, mi sdraio su una strada bloccando il traffico per far presente la situazione climatica e mi stanche bene, caro ambientalista però, ci vieni con me a pulire e bonificare un'area magari perché ci vogliamo fare poi un parco per i bambini o un centro di aggregazione per le persone sbandate in giro? No che non ci vieni e allora su che piano giochiamo? Ma non do tutte le colpe, anzi non le do nessuna colpa a chi sceglie un certo tipo di rivendicazione, io mi sdraio in mezzo alla strada, mi portano di peso, male che vada mi becco una denuncia, male che vada sui social mi danno dell'ecoterrorista, del vandalo, dello scemo eccetera e finisce lì nel male che vada, il problema però rimane, il problema però rimane, quindi cari attivisti, cari ambientalisti, cari fautori di quello che era la crisi climatica, io sono convinto che le cose vanno cambiate dal basso, non puntando in alto, adesso andiamo dai capi di governo a dire guarda che succede questo alla terra, pensate che non lo sappiano, ma davvero pensate che loro, ma guarda che c'è questo problema, io ho una certa età, ho visto l'Italia costruirsi sui rifiuti tossici, dalle gallerie, ai treni a alta velocità, alle autostrade, alle scuole, agli ospedali, vi siete andati a sdraiare davanti alle scuole e dire guarda che qui sarebbe da bonificare, no non ci siete andati, ve lo dico io che non ci siete andati, io e altri come, scemi come me, sì, le abbiamo addirittura occupate queste scuole, perché era l'unico modo per far capire alla giunta comunale, alla regione, allo stato che bisogna provvedere ma concretamente non quac quac quac, altrimenti cosa facciamo? Aspettiamo che la nostra moda e la nostra euforia di essere attivisti, di essere antagonisti, di essere rivoluzionari, scemi col tempo perché si invecchia, perché ci si rompe le palle, perché, beh ma faccio tutto da solo, nessuno mi caga, ma lo fai per chi? Per gli altri lo fai, le cose vanno fatte per se stessi e non è egoismo, inteso letteralmente, perché se no continuiamo a fare le chiacchiere e io ci sono invecchiato a forza di sentire chiacchiere, quindi vado contro tutto e a tutti, persino agli antagonisti, se reputo che state facendo delle cose, che non portano a nulla, letteralmente non portano a nulla di nulla, perché le fabbriche continuano ad inquinare, perché i governi continuano a stipulare contratti, contrattini, sotterfugi vari, perché, ma portiamo l'acqua a questo orticello, ma guarda che quell'orto lì non produce verdura, produce altro che danneggia la salute, ma cosa te ne frega, porta lavoro, porta soldi, porta prestigio alle città, sì ma guarda che c'è la gente che si ammana, ma va, sei un complottista, ti sta inventando tutto, la brace quando è bella calda, serve ancora, ma finché non la rimpassi gli dai un po' di linfa, cari miei, invecchierete senza che il mondo abbia un minimo di speranza, e io questa non la voglio perdere, e non me la toglie nessuno, e continuerò a battermi, a lottare, concretamente, sporcandomi le mani, e finché avrò forza nella schiena, je vais saluto!